Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite, in compenso però siamo stati padroni del gioco per quasi tutta la gara e l'importante adesso appunto è chiudere le partite prima per evitare di farsi male. Con che parate però è importante? Sì, cerco sempre di farmi trovare pronto, oggi ci sono riuscito, altre volte purtroppo no e mi fa piacere aver dato il mio contributo alla squadra. E dunque questa vittoria, playoff blindati e soprattutto questa sfida con il Palermo a tre lunghezze da voi? Sì, pesa sicuramente per l'umore di questa squadra, speriamo di aver portato un po' di gioia ai nostri tifosi dopo un ultimo periodo d'appannamento diciamo, pesa sicuramente tanto e sono sicuro che a Palermo faremo molto bene. Cosa c'era in quell'abbraccio dopo il gol di Balco, tutta la squadra verso il terzino? Sì, sì, noi siamo un grande gruppo, l'abbiamo dimostrato, stasera andiamo a letto con 60 punti, attendiamo le altre gare e siamo un gruppo unito, il mister riesce a farci voler bene e sono molto contento per quest'anno. Ci racconti quella parata su Benedetti in avvio, è stata complicata? Sì, perché non mi ricordo sinceramente come sia voluta l'azione, però mi è sbocata fuori all'ultimo e sono andato per esclusione, ho detto c'era tutta la porta libera sulla mia sinistra, ho detto per forza arriva là e alla fine ce l'ho fatta prendere insomma. Cosa manca ancora alla difesa del Bari per rappresentare quella sicurezza che ad ora sta mancando un po'? Ma per quanto mi riguarda non manca assolutamente nulla, l'unica cosa che dobbiamo cercare di emulare è la grinta, la determinazione e l'approccio alla gara, è l'unica cosa che a volte non riusciamo a ritrovarci. Potreste sfidare un palermo anche con un nuovo allenatore che sembra possa cambiare, quanto temi un avversario arrabbiato dopo una sconfitta del genere? Sicuramente un avversario ferito perché penso sia finita 3-0, 3-0 tosto, una partita importantissima per loro e anche per il Venezia, sono usciti da là con zero punti e sicuramente troveremo appunto un avversario ferito e che avrà spirito di rivalsa, noi comunque cercheremo di dire la nostra sapendo comunque che è una gara molto complicata. Quanto sarà arrabbiato il Bari dopo la scopola dell'andata? Il Bari deve essere sempre arrabbiato, qualsiasi partita. Grazie.